Buongiorno a tutti. Il primo di giugno è uscita la circolare 12e in materia di ISA. Nella stessa vengono esplicitati gli interventi straordinari che sono stati messi in atto per tener conto delle mutate condizioni socio-economiche che si sono svolte negli anni 2019 al 2022. Il processo evolutivo di affinamento dello strumento ISA ha riguardato la revisione biennale di 87 indici e l'aggiornamento di tutti i 175 indici in vigore, al fine di avere una più aderente applicazione al periodo di imposta del 2022, tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati in seguito alla pandemia da Covid-19, ma anche alle tensioni geopolitiche che abbiamo, all'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, nonché ultimo ma non per ultimo il cambio dell'andamento dei tassi di interesse che si sono verificati nel periodo di imposta precedente e sono ancora in atto. Allora abbiamo avuto, nell'ambito del documento viene spiegata anche l'abrogazione del sistema della disciplina delle società in perdita sistemica che ha inciso anche sull'ISA soltanto perché cosa? Per la perdita dei benefici premiali che erano previsti in materia di ISA per i contribuenti che erano più affidabili in materia anche di società in perdita sistemica. Le modifiche principali però della disciplina in materia di IVA che sono rappresentate all'interno del documento sono legate all'articolo 24 del decreto semplificazioni e che ha esteso anche all'anno 2022 le attività che sono finalizzate a elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto anche degli effetti di natura straordinaria di cui abbiamo appena parlato. Il documento specifica che al fine di definire un quadro di riferimento della situazione economica che ha caratterizzato il 2022 è stata indispensabile un'attività preliminare di individuazione e acquisizione da ulteriori fonti informative che sono l'ISTAT, la Banca d'Italia, il CERVED per integrare quelle che erano già disponibili nella Banca dati di base dell'ISA. Due linee di modifiche, la modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite le stime panel che sono ricavi e compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e il reddito per addetto. Seconda linea di modifiche, modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti dalle soglie economiche di riferimento che sono la durata delle scorte, l'analisi del rapporto di lavoro delle figure che sono non dipendenti, la copertura delle spese invece per quelle dei lavoratori dipendenti. Questi interventi hanno comportato una modifica del risultato nell'applicazione dell'ISA e sono commisurati principalmente all'entità di alcuni fattori che sono i seguenti. La contrazione dei margini di redditività del singolo contribuente nel periodo di imposta 2022, la contrazione della marginalità settoriale nel settore in cui il contribuente si trova ad operare. Questo al fine di creare dei correttivi affidabili senza però andare a incidere sulla quantità di informazioni da richiedere nella modulistica direttamente ai contribuenti. Però si tratta sempre di un modello statistico-matematico e non è detto che tutte le variabili siano state considerate. Ecco allora che nasce l'importanza del modello NOTE che è previsto all'interno del modello ISA. In proposito all'utilizzo del modello NOTE vi segnalo un documento che è stato predisposto nel 2019 dal gruppo di studio dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano che ha previsto alcune specifiche caratteristiche di discrepanza che possono essere evidenziate in tale spazio del modello. Il documento è questo e è disponibile sul sito dell'ordine di Milano. Le casistiche si possono verificare per esempio nel quadro annotazioni che vanno indicate nel quadro annotazione sono legate ai dati panel. Per esempio va indicato qualunque tipo di variazione alla eterogeneità individuale nello storico dei dati dell'azienda. Andiamo nello specifico con un esempio. Un'azienda con uno storico altalenante redditi perdite legato a delle variabili sia endogene dell'azienda ma anche esogene dovute al mercato. La presenza di un unico committente che è un caso molto particolare. Settori legati ad esportazioni in paesi con forte instabilità politica. Un'azienda per esempio che si trova a dover operare con dei paesi che hanno avuto ultimamente delle limitazioni nella possibilità di importare determinati tipi di prodotti. Una forte riduzione della produzione e una variazione del numero delle unità produttive disponibili. Poi c'è anche l'indice valore aggiunto per addetto. Infatti la funzione logaritmica può mitigare ma non allulla la rigidità del costo del lavoro nei periodi di crisi. Ci sono casi per esempio in cui un periodo di riduzione delle commesse la dirigenza al posto di ricorrere magari a degli ammortizzatori sociali che sono in prima decide di produrre prodotti semilavorati da stoccare a magazzino con conseguenti disallineamenti del valore aggiunto per addetto e della rotazione delle scorte. Anche la riduzione dei dati disponibili crea maggior approssimazione. Per esempio il numero di ore lavorate per un professionista che possono variare nello storico oppure le provisioni concesse agli agenti e rappresentanti che in alcuni settori sono decrescenti nella loro serie storica. Bene, rappresentare questi dati all'interno del modello note è a mio avviso necessario per poter affrontare in modo sereno un eventuale accesso o verifica da parte dell'agenzia delle entrate che scaturisce proprio magari da questa differenza nei risultati dei modelli ISA. Con questo vi saluto e buona giornata a tutti. Buon lavoro.